Condannata la professoressa di Polignano a Mare con lo pseudonimo di Zia Martina adescava i ragazzi su Instagram per poi girare i video hard con i minori nel bed and breakfast di famiglia. L'insegnante 47enne di scuola elementare, sospesa da quasi tre anni, è stata condannata dal Tribunale di Bari in primo grado a sette anni e tre mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 75 mila euro per due episodi di produzione di materiale pedopornografico e per una presunta vicenda di corruzione di minorenne. Come pene accessorie i giudici hanno disposto l'interdizione dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine, grado, servizio, in istituzione, strutture pubbliche e private frequentate da minori oltre alla misura di sicurezza del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minorenni per la durata di un anno dopo l'espiazione della condanna. A far partire le indagini furono le denunce ai carabinieri fatte dai genitori delle presunte vittime che avevano notato come i figli trascorressero troppo tempo in chat e di come si allarmassero alle richieste degli adulti di capire con chi stessero parlando. Gli atti sessuali tra Zia Martina e i minori sarebbero avvenuti anche in chat in un caso con un 14enne. Il caso esploso nel 2021 quando per la donna che all'epoca insegnava in una scuola elementare del nord Italia scattarono i domiciliari. In aula la donna si era detta vittima del comportamento dei ragazzi ma non è stata creduta.